E per l'occasione abbiamo anche Piero Chiambretti, non ti dico presentatore, non ti dico intrattenitore, non ti dico autore. Autore mi piace perché è largo, vuol dire tutto e vuol dire niente, quindi mi piace, anche se non amo le etichette, però autore televisivo in me è forse il più vicino a quello che faccio, anche se sono qui in altra veste, questa è la verità. Spieghiamolo. Allora, visto che tutti amano la parola diversificare, io diversifico e quindi passo dalla televisione alla cucina, infatti da molti anni, molti anni, quasi 30, ho dei ristoranti, sono partito con uno, poi ne abbiamo fatto un secondo e un terzo. Il primo è un ristorante a Torino, diciamo di cucina contemporanea, gli altri due sono due ristoranti a Torino napoletani, questa è la verità. E posso dire, facciamo una pizza senza togliere niente agli amici di Napoli, che si può considerare, anche perché ha vinto diversi premi, una pizza napoletana DOC, IGP e DOP, ci mettiamo dentro tutti i marchi possibili. E dico per gli amici di Napoli, che magari la sanno più lunga, che il primo pizzaiolo della nostra prima pizzeria si chiamava Brandi, che a Napoli e anche nella storia della pizza ha un perché. Eh sì, però stasera siamo qui per parlare di pasta, di Gragnano. Sì, l'IGP della pasta, quindi proprio l'itinerario dei territori protetti da una qualità eccelsa, una pasta che tenteremo, tenteranno di esportare in tutto il mondo. Sono venuto molto volentieri perché la pasta credo che sia una di quelle cose che piace a tutti, anzi citando Catherine de Neuve, voglio alzare il livello, diceva Gli uomini hanno solo due pensieri nella testa, l'altra è la pasta.